Qui siamo la comuna di Luri, che è il centro di Capicorso. Siamo una comuna di 740 persone tutta l'annata. Questa popolazione è moltiplicata per due, forse tre di statina. Siamo 17 paesoli che formano la comuna di Luri. La comuna va dal Torre a Senega al porto di Santa Severa al mare. Questa comuna è una comuna che si chiama Comuno Centro, Centro di Capicorso. In Capicorso ci sono tre comune principali, Sisco, Luri e Rogliano. Luri è quella comuna sola che ha centrameria, collegio, scuola, dottore, farmacia. Ci sono tutti i servizi con una popolazione richiede dell'autorità comunale. Dunque è un paese in pieno sviluppo, con molte associazioni e molti progetti. Ora la finanza non è... ma speriamo per la bene. Quindi ci sono buoni progetti, buone possibilità per il futuro. Anche che chi è stato fuori come lei ritorni nel proprio paese. Sì, io sono stato molti anni, decine d'anni in continente, vicino a Parigi, in rissignamento. E sono ritornato al paese per ritrovare, come si dice, le sue radiche, le sue racine, come si terminano in marzo del 2014, però non so se riparto o no, ma è stata un'esperienza proprio interessante su molti piani, molti piani e su tutto umano.